Si chiama Scarlett Aldrich, è una donna di 22 anni di età, agente di pulizia penitenziaria e pensate che questa giovane ragazza ha compiuto una cosa abbastanza insolita infatti pensate che la fanciulla in questione, agente di pulizia penitenziaria avrebbe avuto un rapporto intimo, un rapporto sessuale in carcere con un detenuto con una persona che si trova a scontare una pena, chiamiamola detentiva la ragazza però è stata incastrata proprio da un tatuaggio che ovviamente possiede un tatuaggio addirittura piuttosto visibile e al tempo stesso molto particolare infatti il tatuaggio è quello del numero della cella dove appunto si trovava si trova il detenuto con cui ha avuto un rapporto completo si tratta del detenuto di nome Jones e quindi proprio questo particolare ha portato e ha fatto sì che la ragazza venisse ad essere scoperta in Italia queste cose in genere non accadono, accadono quasi sempre all'estero e questa ne è una prova provata vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi iscrivetevi al canale che è per l'appunto narratore italiano commentate, fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un saluto grande al prossimo video una buona giornata a voi grazie e al prossimo video